bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi e dai un pochettino di pazienza perché oramai ci siamo manca davvero poco pochissimo pochi giorni all'evento e finalmente al cambio di season purtroppo le notizie sono sempre di meno perché non ci sono aggiornamenti ma qualcosa c'è sempre per tenervi sempre informati su quello che succede nelle ultime 24 ore di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una cosa molto curiosa ovvero sia la lunghezza di tutte le season dalla numero 1 fino alla numero 12 49 69 67 71 già dalla season 4 cominciano ad allungarsi i giorni 76 in season 5 si torna a 69 nella season 6 addirittura 84 ricordo in season 7 il prolungamento 69 in season 8 84 in season 9 come nella 7 73 nell'ultima season e poi il crollo devastante e la perdita totale di hype negli ultimi giorni perché da 73 giorni si passa a 128 e si chiude con 112 sono davvero delle cose che ci fanno riflettere io reputo che il fulcro pieno di fortnite sia stato dalla season 4 alla season 7 poi si è un po stabilizzato abbiamo visto delle cose meravigliose in game e ne vediamo e ne vedremo tante altre però è anche vero che porcaccia di quella porcaccia season che durano più di 110 giorni cominciano a essere veramente impegnative anche ad un livello proprio mentale comunque oramai ci siamo e staremo a vedere quello che ci aspetta in season 3 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio fermarmi un secondo su salva al mondo ovviamente la il secondo tipo di gioco che a fortnite ci salva al mondo cioè battle royale lo sapete no ve lo dico perché a volte in live la mattina io gioco a salva dalle 8 alle 9 e mezza c'è qualcuno che entri dice ma che cavolo stai giocando che fortnite è questo qua è salva al mondo che è da dove tutto è nato perché parlo con salva al mondo perché c'è una conferma al termine della season tutti i ticket che sono stati accumulati verranno convertiti in lama quindi potremo aprirne parecchi potremmo ottenere un sacco di eroi un sacco di progetti e tanto tanto altro quindi ragazzi non vi preoccupate se non sapete come spendere i vostri ticket su salva al mondo ci pensa epic games ad azzerarveli in cambio di ricompense quindi tanta tanta roba anche lì poi vedremo tutti gli aggiornamenti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una notizia davvero interessante e ce la dice uno dei principali leakers mondiali quello che vedete alle mie spalle ovviamente è il rig come lo chiamano loro il pozzo per come lo chiamiamo noi e perché vi mostro questa immagine perché lui twitta questo delle fonti mi hanno detto che l'oil rig il pozzo verrà cambiato in una specie di oil island nella stagione 3 non abbiamo ovviamente foto non sappiamo altro che quello che ci ha detto ma siccome ci ha preso spesso i volentieri mi sembra giusto che anche voi lo sappiate quindi prepariamoci tra le grandi modifiche a vedere anche qualcosa di nuovo per quello che riguarda il pozzo andiamo avanti a parlare di un altro argomento è proprio lei ragazzi la golden pili oramai in tanti si stanno avvicinando in pochi comunque riescono o riusciranno a prenderla perché vi posso garantire che il livello 350 è follia pura da raggiungere e voglio anche smentire una cosa che sta girando troppo durante le live comunque io vi sento che lo dite è questa l'immagine di cui parliamo che appunto ha fatto il giro del mondo in meno di 24 ore dove un utente chiede al supporto tecnico di epic games ma si potranno livellare platinare ricoprire d'oro dite come un po vi pare le skin anche nella season 3 e il l'utente riceve la risposta purtroppo però da un messaggio automatico perché loro dicono le skin si possono anche upgradeare nella season successiva ma in realtà il messaggio fa riferimento a carburo e fa riferimento a omega il primo è che omega non si poteva maxare quindi non ho ben capito perché abbiano scritto questa cosa visto che è l'unica skin del livello 100 che non è possibile non è stato possibile terminare nella season successivamente invece carburo mi sembra che abbia avuto questa cosa non lo so perché io ce l'ho sempre fatta nelle season quindi ragazzi no purtroppo non si potranno non è certa questa cosa ma è molto probabile che le skin d'oro si otterranno in questa season non nella prossima io mi auguro comunque per voi che possiate ottenerla e farcela a raggiungere quelle che preferite però credo che non sia possibile terminarle nella season 3 e andiamo avanti a parlare di un altro argomento perché voglio ricordarvi una cosa davvero interessante come sempre ricordiamoci che epic games ha uno store all'esterno di fortnite il progetto è nato oramai da più di un anno e hanno tantissimi videogiochi ci hanno addirittura regalato gta 5 ragazzi vogliamo dircelo che ci hanno regalato gta 5 beh io so che il 13 agosto arriverà il gioco troi totalmente gratuito deve essere pure un bel videogioco sviluppato da sega tanta tanta roba ragazzi parliamo appunto dei pionieri della videoludica mondiale vi ricordo sarà gratis per 24 ore io non ho mai visto il gioco ma dovrebbe essere un combattimento a turni non ne ho davvero idea quindi perdonate l'ignoranza ma ricorda ve lo ricorderò comunque ad agosto il 13 agosto sarà disponibile per tutti andiamo avanti a parlare di un altro argomento di oggi perché c'è anche la side story sicuramente molti di voi hanno notato che nella costa bassa della mappa c'è stato il pipe man come lo chiamano loro ovvero sia l'uomo tubo come lo chiamiamo noi che si è spostato sulla costa prima era in un punto poi era seduto poi era in piedi beh se lo volete sapere ragazzi ha raggiunto la sua ultima posizione è lì bello seduto che si guarda al panorama un po come la side story che c'è stato nel capitolo precedente nella season nel capitolo precedente degli uomini di roccia che mi sembra che sia andata avanti tutta la season 8 quindi una curiosità sicuramente visto che il team di epic games ci tiene a inserire anche delle piccolezze delle side story come quelle insomma delle guerre della guerra degli orsi contro gli gnomi arriviamo ragazzi a parlare dell'ultimo argomento di questo video che è anche un argomento molto molto interessante non è ovviamente l'immagine che abbiamo già visto e stravisto ma riguarda la season 3 e arrivano delle fonti molto molto serie come sempre prendete tutto con le pinze però io vi parlo solo se ci sono i grandi leakers mondiali che lo dicono quindi non mi permetterei mai di dire qualcosa che poi magari potrebbe essere una castroneria e sembrerebbe che il livello dell'acqua nella season 3 tenderà a diminuire con il progredire della season vi ricordate nella season 7 il castello nella montagna dovrebbe essere lo stesso il concetto abbiamo iniziato la season 7 con solamente le torrette che uscivano dalla cima della montagna per poi andando avanti andando avanti abbiamo scoperto tutto il castello e le varie ale capo ali alle le ali del castello che abbiamo potuto esplorare appunto dovrebbe essere la stessa cosa con l'acqua non lo sappiamo però chi lo dice di solito ci prende e quindi ragazzi staremo a vedere insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi anche di fare un salto sul secondo canale quello dove suona la batteria por caccia miseria vi aspetto anche di là noi anzi a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao